E siamo a otto. Si tratta di Pasqua tra Umbre Toscana, l'iniziativa promossa dalla Diocesi e dal Museo Diocesano. Un'edizione particolare, questa del 2023, con due novità e un ulteriore allargamento del territorio da valorizzare in un fattivo coordinamento in rete che sigla oramai una sinergia interregionale. È un'iniziativa che avrà come sempre delle novità. Di solito riconfermiamo i comuni aderenti anche nelle precedenti edizioni ma con sempre degli elementi nuovi. Quest'anno sono due. Quindi abbiamo la naturale partecipazione della Diocesi di Gubbio e quindi la collaborazione con il Museo Diocesano di Gubbio. Infatti il primo appuntamento, l'8 di aprile, si terrà proprio a Gubbio con l'inaugurazione di una mostra. L'altro elemento di novità è la partecipazione a questa ottava iniziativa di un nuovo comune che è quello di Lisciano Niccone. Dunque potremmo dire quattro diocesi perché abbiamo la nostra diocesi di Città di Castello, di Gubbio, di Perugia perché Lisciano Niccone è della diocesi di Perugia. E per quanto riguarda i quattro comuni della regione toscana abbiamo naturalmente anche la diocesi di Arezzo. I comuni nella loro totalità sono 13 e gli eventi culturali in programma nei mesi appunto di aprile fino al 18 di maggio sono 15. In quanto abbiamo in aggiunta anche un evento al Museo di Aboca che collabora con il Museo Diocesano di Città di Castello ormai da tempo. E anche un appuntamento importante che si terrà il 28 di aprile nel Salone Gotico del Museo Diocesano. Una conferenza tematica proprio sul tema della resurrezione. Io vorrei ringraziare il nostro vescovo, s'eccellenza Luciano Paolucci Bedini, per aver voluto riconfermare anche questa ottava edizione il cui scopo è non solo l'approfondimento tematico sul tema della resurrezione ma anche la valorizzazione del ricco patrimonio culturale ecclesiastico del comprensorio dell'Alto Tevere Umbro. Ci sarà dunque un calendario fit di appuntamenti che interesserà un vasto territorio con l'obiettivo di scoprire e far riscoprire le bellezze artistiche e culturali di tutto il comprensorio umbro e toscano. Uno scambio culturale proficuo e stimolante che unisce strutture civiche ed ecclesiastiche all'insegna del bene comune nel nome della patentica spiritualità e condivisione.